Bella raga, solizio letterino! Buonasera a tutti! Anzi, direi buonanotte visto l'orario, mezzanotte e mezza. Non male per iniziare una registrazione, eh? Soprattutto la voce bella, cristallina, pulita. Comunque, bentornati su Overwatch. Oggi riprendiamo quelle partite classificate. Sono rimasto parecchio indietro, ho dato un'occhiata da prima e devo ricominciare da capo. Stagione 18, ovviamente adesso c'è il 2-2-2, cioè due tank, due DPS e due healer obbligatori. Quindi si sceglie il tank in questo caso e proviamo questa nuova modalità. Ho giocato nella stagione precedente e devo dire che è una gran schifezza, una gran schifezza perché il risultato non cambia. Cioè, o avete un premade, un gruppo già fatto, con amici, eccetera, eccetera, con cui giocate spesso, altrimenti viene fuori uno schifo comunque, perché chi non sa giocare il tank e si mette il tank, gioca male. Non può switchare, ci sono delle volte in cui servirebbe che qualcuno cambiasse e prendesse un altro tank, un altro DPS, insomma. Vediamo come va questa partita. Ecco, per esempio, qualcuno ambizialmente ha che io ho preso Winston e vorranno di sicuro un Reinhardt con lo scudo, o un Reinhardt con lo scudo. Ma visto che io non sono buono, allora mi tengo questo e vediamo come va. Potremmo fare un bel dive in. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto ho configurato la tastiera, si, ho configurato il mouse, si, ok. Qua, 180, ci vuole un botto per farlo. così, un po' meglio. Ok, andiamo, sì. Mi stanno già crivellando i colpi, va che bello. buoni, 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 buoni. E uno è andato. No, chi è che ha abbandonato la partita? una porca zozza. E' uno dei nostri? Ma va che schifo. Ma perché sono tornato a giocare comunque, se avete visto il vlog di oggi, di giovedì, ho un po' di roba da montare, un po' di roba da montare che non ho avuto il tempo di montare stasera, anche perché vi ho detto che guardavo una trasmissione molto, molto carina e divertita con mia moglie. E quindi abbiate pazienza, probabilmente lo monterò tra sabato e domenica. Devo usare il giorno, raga, perché, perché sto invecchiando e la notte non ce la faccio più a stare troppo tempo sveglio. Quindi assolutamente verrà montato durante il giorno tra sabato e domenica. Tra l'altro venerdì, cioè domani vado, non ci sono, quindi niente video. Sabato non ci sono, perché c'è una festa di compleanno, quindi niente video. Quindi se ne parla o sabato durante il giorno monterò il mio e domenica sera magari faccio questa benedetta live dove monterò quello di mio papà. Devo vedere un po' con la webcam come fare, perché se questa la giro verso il basso mi inquadra la scrivania, però non è che posso metterci un case sopra la scrivania così, comodamente. Magari faccio una cosa di questo tipo, molto motherboard, ram, processore, vi faccio vedere come si fa, molto dissipatore, tutto appoggiato sopra la motherboard, ok, sulla scrivania, e poi infiliamo il tutto dentro il case. Tanto il dissipatore è piccolino, non è neomax, è basso. Non è neomax che ho preso, sì. Già non mi ricordo più, guarda quella, guarda bella. Era questo, no? Era questo? Vediamo se scende di qua, no? Dov'è? Eccola. Dov'è andata? Ecco di qua. Perfetto. Aia. Porca suzza. Dammi, dammi una colettina, dai che c'ho cinquantinità. Grazie. Aia. Aia. L'immorte. Questa? Tiriamo giù? Sì. Una colettina? C'è sempre proprio una micura? No. Dov'è che c'è qua dentro? Aspetta. Aspetta che non mi ricordo più. No. Aiaia. Io dovrò buttarmi nella mischia, non so se l'avete capito. Allora stiamo prendendo, è buona. Ok, il tasto indietro mi fa saltare. Questo è importante. Ho visto qualcuno lì. Buona. Ostia. Mamma mia come mi manca anche Reaper. Aspetta che facciamo sul chiappa. No. Eh ma nessuno che mi cura. Sì. guarda lì dai 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 bella e tira fuori sto scudo oh grazie chi dove è il cecchino aspetta che li pigliamo tutte le spalle questi barbari mori 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 eh si è andato però ciccio ciccio bello aia aia bella ma va che mi ha narcotizzato con l'ultimo colpettino oh come mi mancava questo bellissimo gioco c'è una zanza che gira bella 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 che soddisfazione che soddisfazione c'è una zanzara maledetta che sta girando è possibile che in macchina mi seguono mi seguo c'è pure aia caputassa e basta e e e e e e e no colpa mia colpa mia colpissima mia e 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 questo l'abbiamo portata a casa e e difesa difesa user e lei chissà se me la fanno usare e 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 l'ho fatto più schifo con lì l'ero fatto più schifo dell'inps allora vediamo un po' tasto indietro mi scelto io tasto sinistro mi scelta lui ok bomba bomba ok granato ma cosa c'è una gittata che non si capisce la velocità di fuga allora quello indietro mi scudo io le rossi e e bellissimo un po' più su la 5 4 3 2 1 a il potere della distruzione 2 3 2 3 4 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 15 15 Sì, sì, sì. chi è che è morto mi sono perso qualcuno ah zanzara ma morso maledetta ha preso preso bella salve ho sparato contro l'albero forse è il caso che me ne vada ecco lo sapevo sono un cretino ho sentito lì per dietro mi sono dimenticato devo uscire dai ecco di ferro no 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 vai biondo ah mezzo di merda lo sapevo che era lì sopra si divertiva arrivo 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 vieni duro mancano 30 secondi vieni duro il tempo sta scavando terminiamo di lontani non morire dieci nove otto tre bella bella ah così si vince questo dove va gg raga bella in 19 minuti peccato per barbone che ci ha lasciato da tank mi piace sta cosa molto mi piace tempo presso l'obiettivo direi che il mio dovere l'ho fatto perfetto raga io direi che ci possiamo anche salutare perché dopo questa a lui gli diamo una capacità decisionale a lui gli diamo un gioco di squadra e a lui gli diamo un gioco di squadra bravo bravi tutti gg bene e mi faccio un'altra partita ma io direi che per un altro bel video possiamo fermarci qua ci vediamo penso domenica domenica sera se riesco a fare qualcosa domani visto che domani c'è un sciopero di mezzi tanto per cambiare che gioia andare in metropolitana e andrò in macchina magari riesco a farvi un vlog dalla macchina oh un viola soldi va bene non si rifiuta ormai bella ciao ciao Grazie a tutti.